Un saluto dal Tg della mobilità a Trastevere, sono in programma nuovi interventi sulle alberature e le aree verdi tra Viale Trastevere, Piazza Mastai e Piazza Sonnino, dalla mezzanotte del 13 luglio a quella del 15 luglio, sono previsti divieti di sosta a tratti in Piazza Sonnino, in Viale Trastevere sino all'altezza di Via Morosini in direzione sia di Via Saffi sia di Piazza Belli e su Piazza Mastai. Inoltre sempre dal 13 al 15 luglio tra le 7 e le 17 in Piazza Belli sarà chiusa al traffico la corsia laterale in direzione di Via Saffi tra Lungotevere Sanzio e Piazza Sonnino, chiusure anche sulla stessa Piazza Sonnino, in Viale Trastevere le chiusure saranno attuate sulla corsia laterale destra in direzione di Via Saffi tra Piazza Sonnino e Via Saffi, nonché sulla corsia in direzione Ponte Garibaldi tra Largo da Feltre e Piazza Sonnino. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.